A settembre sono stati consegnati i lavori per il rifiacimento della strada provinciale 11, lavori che non sono ancora iniziati. Facciamo il punto della situazione con il sindaco Gabriele Iuliano. Purtroppo è un fatto molto grave, un problema molto serio che si è abbattuto su questa strada, sembra quasi maledetta dopo aver contribuito in maniera forte a realizzare il progetto, ad avere la possibilità attraverso la Regione Campania di finanziarla e con la provincia appunto di appaltare questi lavori. Espletate tutte le attività e le procedure, la ditta che è risultata giudicataria ha avuto un'interdittiva antimafia. Sono cose che purtroppo capitano e che creano sovente disagio e ritardo nell'avvio dei lavori. Da lì è nato poi un contenzioso con la Regione Campania rispetto a questa interdittiva che la Prefettura aveva comunicato alla stazione appaltante, ricorso al TAR, Consiglio di Stato, insomma le solite pastoie burocratico, amministrativo e giudiziarie che tante volte impattano terribilmente. Questo è stato uno di quei casi diciamo così più emblematici, peraltro una controversia che anche sul piano proprio del diritto di difficile districazione e che insomma sembra che ora debba avviarsi verso una soluzione. Certamente un fatto che ci penalizza, speravamo veramente che lavori potessero cominciare, ora sembra che questa ditta giudicataria abbia rinunciato, peraltro anche quella che si era collocata immediatamente dopo pare che sia stata colpita la stessa misura interdittiva e dunque oggi sia la Regione sia la provincia a cui peraltro io ho scritto reiteratamente agli uffici, al responsabile degli appalti, al Presidente e all'area regionale che aveva in gestione questo affidamento di definire quanto prima questa vicenda di carattere giudiziario e amministrativo per fare in modo che questi lavori potessero o possono immediatamente essere avviati. Certamente quando si tratta di una procedura di evidenza pubblica, di un appalto aggiudicato con queste problematiche non è semplice procedere speditamente, c'è bisogno di fare tutta una serie di passaggi. Stiamo sollecitando alla cremente regione, provincia e uffici perché questo iter si possa definire e i lavori possono cominciare perché ormai è una strada che purtroppo è diventata assolutamente impraticabile e tutti gli sforzi che noi abbiamo compiuto in questo momento rischiano di essere vanificati. Ma io sono fiducioso che anche attraverso l'azione di pressione che stiamo esercitando e di disponibilità che abbiamo incrociato negli uffici si possa risolvere rapidamente questo aspetto amministrativo e burocratico e quindi dare corso ai lavori che sono la cosa a cui noi teniamo di più e che più interessano perché è un'arteria fondamentale come abbiamo sempre detto. Siamo con il Vice Sindaco di Roccadaspide, Girola Mauricchio, per parlare di un'importante questione che riguarda la viabilità. A settembre sono stati consegnati i lavori di rifiacimento della strada provinciale 11 che collega Roccadaspide ed Albanella ma da allora purtroppo non si è saputo più niente. Qual è la situazione attuale che riguarda appunto questa arteria? Voglio precisare che il progetto di questa strada per avere il finanziamento l'ha fatto il Comune di Roccadaspide a proprio spesso. È un collegamento che mette insieme sia il Comune di Roccadaspide che quello di Albanella, quindi la famosa strada Serra Albanella. La Regione Campania ha indetto la gara e tra le ditte sembra che più di una ha un'interdittiva antimafia. Questo impedisce di realizzare questa strada. Sembrerebbe che la Regione, il Sindaco se è stato a Napoli pochi giorni fa proprio per avere delucidazione in merito, che i fondi adesso saranno trasferiti all'ente provincia per indire una nuova gara. A seguito di ciò potranno iniziare i lavori. Mi auguro che la provincia faccia il proprio dovere, lo faccia celermente e indica subito questa nuova gara per affidare i lavori. Certamente la strada è in una situazione vergognosa, è intrafficabile e la provincia non sta facendo niente neanche per ripristinare i punti più pericoloso.